Ho dimenticato le scarpe e voglio mangiare un petto di pollo. Ho il latte con tanti biscotti. E alla televisione. Voglio un po' di cioccolato al latte. E Stefani ha lasciato Pippo. E la crostata, quella di mela, ci metti le uova e la cuoci nel forno. Io l'ho condita, l'insalato!